...progettate dai migliori genitori, guidate al limite lungo, dai piloti più veloci. Scuderie che vincono e vengono, i piloti vanno e vengono, ma il passato vive per sempre. Gargiare in circuiti la legge, dove una frazione di secondo decide chi trionfa e chi viene sconfitto, dove la vittoria emerge all'ultimo istante. Sì, scusate da uscire, per favore. Grazie a tutti. 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 grazie a tutti. 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 a tutti.